Il CQ è il CQ è il CQ, 11 metri, fa chiamata 165 Charlie Mike 102, 165 Charlie Mike 102, il CQ è il CQ, 11 metri, fa chiamata 165 Charlie Mike 102, il CQ è il CQ, 11 metri, fa chiamata 165 Charlie Mike 102, il CQ è il CQ, 11 metri, fa chiamata 165 Charlie Mike 102, il CQ è il CQ, 11 metri, fa chiamata 165 Charlie Mike 102, il CQ è il CQ, 11 metri, fa chiamata 165 Charlie Mike 102, il CQ è il CQ, 11 metri, fa chiamata 165 Charlie Mike 102, ון the CQ è il CQ, 1 metri, fa chiamata 165 Charlie Mike 102, il CQ è il CQ, 11 metri, fa chiamata ese sent PHP, Sì, 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 Sì.